Antenne Europa ora è anche online. Il nuovo centro di informazione europea del Consiglio regionale, realizzato in collaborazione con Europe Direct Torino, informa i cittadini del Piemonte, gli enti locali, le ONG, le scuole e le imprese sulle opportunità dell'Unione Europea, compresi i bandi e i finanziamenti. Da segnalare la sezione news con notizie europee di rilievo regionale e la pagina l'Europa in Piemonte, con una mappatura delle agenzie e gli sportelli che lavorano con o per l'Unione Europea.